Ciao ragazzi e bentornati in questa nostra nuova puntata dei signori on demand della nostra rubrica cinematografica, del nostro grande youtube del signore buonasera che vado a scoprire l'intero mondo panoramico di Netflix, Disney+, Amazon Prime Video del momento in questa puntata ragazzi parliamo di un ritorno grandissimo, di uno dei più grandi titoli di Amazon Prime Video la terza stagione di uno show di investigazione davvero famosissimo, ovvero Selepio di Hunter 3, Caccia all'uomo Andate veloci Hai sentito parlare di navigazione in un po' Mai sottopalutare l'avversario Verificate ogni possibile nascondiglio Sì ragazzi è tornato su Amazon Prime Video la terza stagione di Selepio di Hunter E' uno show, come dire, un reality show di investigazione dove abbiamo un gruppo di VIP Ogni anno sempre più forti, ragazzi quest'anno il cast è pazzesco Uno dei cast sicuramente più forti di questo programma di sempre E' un gruppo di VIP che devono scappare per 14 giorni da delle guardie, da dei ladri, da dei poliziotti Insomma una sorta di guerra e ladri insomma Dove devono scappare per 14 giorni Facendosi aiutare da pinci, parenti, conoscenti, insomma così E raggiungere il punto di estrazione E quindi non farsi acchiappare insomma dalle guardie E così vincere questo programma Ecco, è un road show, come dire E' molto divertente Dove ovviamente la vericità e la verità dei fatti poi sono molto constatabili Però, e contestabili, però insomma, così così E' un programma dove appunto quest'anno abbiamo un cast è fortissimo Abbiamo Luca Argentaro con la moglie, abbiamo i Rama Corcomi Abbiamo la Katia Follesa, abbiamo i The Jackal Abbiamo poi i Due di Gomorra, insomma, Ciro e così via Quindi ragazzi davvero, come dire, un cast è pazzesco Per un road show che è iniziato da Firenze Sono stati lasciati appunto, come dire, i nostri VIP Le prese con dei telefoni satellitari E delle proprie carte di credito che possono utilizzare quando vogliono Con un conto limitato E possono appunto scappare in tutta Italia E quindi vediamo di stricarsi, come dire, in tutte le regioni italiane Da amici, parenti, conoscenti Vediamo i Rama che va da Blanco al suo concerto al Fabricca Milano Vediamo poi dopo i Quelli di Gomorra Che vanno da Quelli dell'Antico Vinaio a Firenze Poi vediamo la Mara Maionchi Poi vediamo Luca Argentaro che va prima da Carlo Conti a Firenze Qui un'apparizione del grande Carlo E poi dopo vanno anche da Gianni Morandi con Anna C'è ragazzi un programma dove ovviamente è un po' tutto costruito La vericità, insomma, dovremmo capire un attimo com'è Però ecco E quindi dobbiamo scoprire, insomma, nell'andamento delle puntate Sono ben sei puntate Le prime tre sono andate in onda appunto Messe in pari in sesso Sopra in video già adesso Le altre tre, quelle finali Le sono andate in questi ultimi giorni E quindi dovremmo scoprire Soltanto guardando le ultime puntate Quale sarà la coppia Oppure il vincitore di questa terza edizione selepa di Hunter Uno show che a me piace molto Perché comunque è molto dinamico È un show molto divertente Sembra un po' la fece di Pechino Express Ecco, se vogliamo E il cast è questa Mi piace particolarmente La Katia Follese è fortissima Poi i Rama e i Corcomi sono davvero fantastici Sembrano un po' Fedez con lui sale della prima edizione Poi il look argentino Un nostro doc fantastico Un cast molto forte Che ha dato davvero del filo da torcere quest'anno Agli Hunters Quindi sono stati molto forti Però ovviamente Katia Follese è stata la prima eliminata Dovremmo scoprire poi Nel corso delle puntate Chi saranno gli successivi E chi rimarranno in gara Appunto per questa grande finale Dell'ultima puntata Che dovrebbero mettere in questi giorni Proprio in pan in sesso Su Amazon Prime Video Quindi uno show che io vi consiglio Attualmente di vedere Perché è uno dei programmi di Amazon Prime Video Di punta Molto molto belli Forse si seccono dopo LOL Ecco quindi comunque È una grande produzione Io vi consiglio di vedere Fatemi sapere ragazzi Qui sotto nei commenti Se a voi vi piace Questo show Di Amazon Prime Video Oppure meno Fatevi sapere chi è la vostra copia preferita E se questo video vi è piaciuta O meno particolarmente Vi ringrazio In questa mia puntata Dei signori on demand E vi do appuntamento Con una prossima puntata Sempre qui sul nostro canale YouTube E signore buonasera A presto Grazie a tutti Grazie a tutti